La D-Wall è una svolta, è una figata e da oggi è disponibile per tutti qui a Stellanition. La D-Wall ci permette di lavorare sia dal punto di vista del miglioramento della performance ma non solo, anche quella che è la riabilitazione in caso di atleta infortunato, ma anche di recuperare uno stato di salute che magari manca. Tutto questo è possibile grazie a un sistema di tecnologia spaziale avanzata formata principalmente da una telecamera in 3D e una pedana formata da celle di carico. La telecamera 3D ci permette di innanzitutto riconoscere le posizioni del nostro corpo all'interno dello spazio. Inoltre la pedana con le celle di carico ci permette di definire dove il nostro corpo scarica e scambia delle forze con il suolo. In questo modo potremmo capire se potrebbe ad esempio esserci un disequilibrio. Il primo passo che si fa quando si inizia ad utilizzare questa D-Wall è quello di creare un profilo utente nel quale quindi vengono inserite i primi dati del soggetto con le sue misure antropometriche e dopodiché qualsiasi test o qualsiasi esercizio che verrà fatto porterà dei risultati e quindi dei feedback immediati. In questo modo seguire l'individuo nel tempo diventa molto molto semplice. La D-Wall quindi possiede una grande quantità di programmi. Questi programmi possono essere eseguiti a corpo libero, possono essere eseguiti attraverso l'utilizzo di accessori come manubri ma anche attraverso l'utilizzo delle pedane wireless che quindi vengono collegate direttamente al sistema e ci permettono di svolgere determinati esercizi aumentando quindi la complessità di quelli che sono gli esercizi svolti senza carico. Inoltre molti esercizi possono essere eseguiti attraverso dei giochi. La D-Wall cerca di rendere il lavoro un po' meno complicato e molto più divertente portando quindi agli stessi risultati. Ad esempio siamo in grado di pilotare un aeroplanino attraverso il movimento del nostro centro di cavità lavorando quindi molto sull'equilibrio ma in realtà sta giocando e guidando un piccolo aeroplanino. La D-Wall è la rivoluzione del fitness, della performance e della riabilitazione.